il consolino show ti facciamo prendere lo facciamo prendere come agente esterno di stair bikers se non lo conoscete ve lo presento quella brutta faccia è il cozzolino mi piace proprio questo scalino ah forse è l'avviamento no forse non gli piace l'avviamento eh sì Rocco ci prova senza sparagno di gomme aspetta che ho messo posto aspetta che ho messo aspetta che ho messo guarda Rocco una china da regni ma non ti cazzo non ti cazzo tu non cazzo guarda Rocco che sta facendo da lì mi sta combinando non mi ricorda la fare la foresta che mi fa ma non stradale li arrestano come hai fatto a mettere questa Ma che hai fatto? Sta scendendo benzina Ma come l'hai messa così la moto? Dai non ci pensare, è solo la terza volta E' la seconda, non è la terza Ah ero convinto che già avevo provato le moto E questa era la terza La marcia dentro Se ne cado direttamente Si scivola Si scivola A piedi si scivola, te lo assicuro Un po' raffreddato? Eh? Eh